ciao a tutti sono antonio dovete perdonarmi veramente se non mi sono fatto vivo per questo mese e mezzo si e no ma purtroppo avevo il computer guasto non ho potuto postare video proprio neanche dal cellulare ci riuscivo purtroppo dalla playstation non si possono pubblicare video su youtube nisba quindi riprendiamo più forte di prima torniamo un attimo alla categoria gts e andiamo sulle auto tedesche perché oggi parliamo ovviamente se avete capito dalla saga facciamoci un giro mi sono dimenticato di un'auto tedesca particolare la bmw cazzo non l'ho messa vabbè rimediamo oggi la bmw di prova è una m3 chrome line coupé presente in gran turismo 6 come prototipo ma adesso è stato messo come ufficiale quindi andiamo a vedere la macchina e godetevi il giro bene eccoci su questa macchina questa l'ho aggiunta dopo che su gran turismo è stato gran turismo è stato patchato per mettere appunto questa bellissima bmw veniamo alle note tecniche allora questa macchina innanzitutto è una gts quindi 570 pp con questa con questo regolamento la macchina a 552 cavalli di massima e 1376 kg chi è attento avrà già notato il peso è abbastanza pesante questa questa pesantezza influisce soprattutto sulla frenata e sulla capacità di sterzata perché come vedete nel primo giro avevo abbastanza difficoltà a sterzare soprattutto nelle curve lente la macchina soffre abbastanza di sottosterzo soprattutto a gomme fredde poi quando le gomme si riscaldano un poco il problema si risolve parzialmente devo dire che va molto ma molto bene con le gomme consumate forse proprio a causa di questo sottosterzo la macchina non è eccessivamente reattiva e quindi riesce ad andare molto bene anche con le gomme molto consumate o mediamente consumate come avverrà per la maggior parte del tempo nel campionato ha un'ottima accelerazione però ha un rombo che non mi sconfintara onestamente il rombo dal di dietro quindi dai tubi di scarico è bellissimo niente da dire però dal davanti sembra di guidare una macchina elettrica che mi fa veramente cagare e quindi potevano fare qualcosina di meglio con questa macchina il team polifoni che altro dire una macchina che tiene bene nelle curve veloci appunto soffrendo di sottosterzo questo sottosterzo però non si non si sente molto nelle curve veloci infatti nella chicane delle piscine o meglio nella chicane dopo quella delle piscine è la macchina tenuta abbastanza bene soprattutto col posteriore che lì in genere tende ad essere ballerino la uno dei pochi pochissimi difetti oltre al sottosterzo e appunto la frenata bisogna frenare molto presto e settare le sospensioni abbastanza morbide da poter consentire una frenata in sicurezza allora io concludo qui il commento di questa macchina perché vivo mi voglio ancora scusare con tutti voi se sono mancato in questo periodo però ripeto ho avuto il computer rotto e dalla playstation non si possono pubblicare video tantomeno dal cellulare che ho scoperto che nonostante sia scritto youtube non è possibile da ora in poi riprenderò a fare video a manetta il prossimo video dovrebbe dico dovrebbe essere sabato quindi sempre con la categoria con la saga facciamoci un giro perché dobbiamo concludere prima di settembre dove andare passo spedito qui i ragazzi del video vi è piaciuto cliccate un bel mi piace e se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo così aumentiamo le iscrizioni e la visibilità del canale e un grazie a sandro a sandro del team gt open nation per sponsorizzare ancora una volta il campionato noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao